12 punti chiari e netti sono le idee prodotte dall'appuntamento dell'ingotto del 28-29 settembre riassunte in un manifesto teso a dare finalmente risposte concrete alla questione settentrionale. Il primo progetto è quello dell'Euroregione del Nord, costituzionalmente autodeterminata, che definisce le proprie politiche e opera con regole certe per rilanciare efficienza e sviluppo. Si è ribadito che la ricchezza del Nord deve far crescere il Nord, un risultato che si otterrebbe trattenendo a livello regionale il 75% delle tasse pagate dai cittadini e dalle imprese dell'Euroregione per investire nello sviluppo. Si vuole dare un taglio all'assistenzialismo verso imprese senza futuro, eliminando i sussidi a perdere per incentivare invece l'innovazione, le esportazioni e la ricerca. Collegato direttamente a questo punto, il successivo, che chiede di introdurre subito una fiscalità di vantaggio per i territori del Nord per contrastare la delocalizzazione delle imprese. Fondamentale è ritenuto quindi che il sistema creditizio sostenga davvero le imprese produttive del Nord nell'accesso al credito. Le banche, che non lo faranno, dovranno essere commissariate. Sul piano istituzionale si vorrebbe avere meno Stato, meno sprechi, più federalismo. In quest'ottica andrebbe tagliato un milione di dipendenti pubblici delle regioni non virtuose in base al rapporto con il PIR regionale e con il numero di abitanti. Da ciò discenderebbe l'azzeramento della burocrazia, che significa prima di tutto rispetto rigoroso dei termini di pagamento da parte del pubblico. Per far ripartire il motore del Nord occorre poi realizzare infrastrutture integrate attraverso regole semplici, tempi certi e appalti a chilometro zero, assicurando il libero accesso alle reti infrastrutturali, a tutti gli operatori, dai treni alla banda larga. Per dare una scossa alle prospettive occupazionali dei giovani è proposta l'esenzione dall'IRPEF per l'assunzione degli under 35 per i primi tre anni di lavoro. Sempre in tema lavorativo si auspica il passaggio dalla contrattazione collettiva nazionale ad una su base regionale. Lo stesso criterio territoriale dovrebbe riguardare la riforma del sistema pensionistico. Medesimo schema è pensato per un nuovo sistema scolastico collegato al mondo delle imprese che premi economicamente il merito e si basi sulla valutazione degli insegnanti anche da parte dei cittadini. L'ultimo punto, il dodicesimo, è dedicato al taglio drastico dei costi della politica che prevede il dimezzamento dei parlamentari, la riduzione dei consiglieri regionali con le macro-regioni e dulcis in fundo all'istituzione del Senato federale, una camera delle regioni a costo zero.